Oltre 50 insegne metalliche presenti nei principali monumenti del centro storico di Fano saranno utili per fornire informazioni di base come il nome dell'edificio, l'eventuale progettista e il periodo storico di riferimento. Questo sarà possibile grazie a un nuovo progetto che consiste nell'applicare particolari adesivi di 10 cm x 10 sui pannelli illustrativi già presenti. Attualmente ne sono stati collocati 5 detti QR code nelle insegne delle tombe malatestiane dell'ex chiesa di San Francesco, dell'Arco d'Augusto, Porta della Mandria, Duomo e Rocca Malatestiana. Entro il 2015 poi saranno installati 25 monumenti cittadini. Questo è un piccolo passo verso le applicazioni digitali nel settore turistico, ci sembrava importante arricchire un po' le nostre insegne monumentali che hanno delle informazioni statiche con un'informazione adesiva, dinamica. E la vera novità io credo che sia il passaggio in lingua perché c'è in inglese, in francese, in spagnolo e in tedesco. I primi a sperimentarlo quindi saranno 160 tedeschi provenienti da Rastat, ospiti della città di Fano per il trentennale del gemellaggio. Le informazioni turistiche invece sono state fornite dalla banca dati La Valle del Metauro, presente per l'associazione ambientalista Argonauta Enrico Tosi. Attualmente la nostra banca dati comprende un numero elevatissimo di schede e immagini ed è questo l'elemento più caratterizzante rispetto ad altri progetti simili perché di QR code ce ne sono un po' dappertutto. Però ecco, è il nostro, ripeto, caratterizzato dal fatto che sono oltre 7.000 schede elaborate da specialisti delle varie materie, materie dalle quali poi si può ricavare il materiale sintetizzato ovviamente per questi QR code. Il procedimento è semplice, come prima cosa sarà necessario scaricare gratuitamente l'applicazione QR Scan o scanner oppure QR Reader, poi inquadrando con la fotocamera del proprio cellulare o tablet sarà possibile accedere immediatamente a pagine web che contengono schede sintetiche che illustrano il monumento e che rimandano a schede più ricche e dettagliate contenute nella banca dati La Valle del Metauro. Coinvolti nel progetto anche gli studenti del Battisti che hanno tradotto le informazioni in 5 lingue. Semplicemente dobbiamo parlare, quindi descrivere in poche righe, in meno di un minuto, i fatti salienti e le cose più importanti sul monumento scelto. Questo progetto comunque sia ci ha reso partecipi nella vita attiva della città perché ci ha responsabilizzati anche dato che abbiamo potuto sperimentare le nostre abilità linguistiche e ogni alunno comunque sia stato felice di poter contribuire e fare la sua parte.